Allora a Londra dove un avico avrebbe investito un gruppo di pedoni davanti al museo di storia naturale di questa bellissima città capitale dell'Inghilterra. Lo avrebbe riferito alla BBC, la polizia ha isolato l'aria intera mentre per i soccorri sono stati portati dalle persone rimaste purtroppo gravemente colpite. Le fonti della polizia hanno fatto sapere che una persona pensate che è stata arrestata dopo sarebbe stato bloccata a terra in un bizzo dei poliziotti innanzi agli sguardi attornati dei molti turisti presenti innanzi al museo. L'auto sarebbe chiombata sulla folla intorno alle 14.20 ora locale, erano le 15.20 in Italia non fa sapere il daily mail. Un testimone sconvolto ha detto che per l'appunto era veramente una situazione terribile anche perché la polizia per fortuna è riuscita a soccorrere o meglio a prestare subito soccorso alle persone più volte e a bloccare, ammanettare il personaggio stupido. Grazie, questo sarebbe quanto, autore chiaramente di questo video di atto. Iscrivetevi, saluti, a presto.